Per noi è importante parlare un linguaggio di novità, questa politica sta dimostrando e i fatti sono più eloquenti delle nostre parole, che le risposte ai problemi della gente non vengono, i grandi partiti sono all'implosione, c'è bisogno veramente di un partito nuovo, un partito della nazione che parla il linguaggio della riconciliazione nazionale, dell'identità e anche che ricuccia un paese disgregato, impegnato in mille lotte corporative, gli uni contro gli altri, territori del nord contro quelli del sud e viceversa. Verso nord secondo lei può essere una risposta? Questo paese va avanti assieme, non si salva se c'è la consapevolezza o se c'è l'opinione che un territorio è migliore dell'altro, credo che nord e sud devono procedere assieme, le lotte dei territori non hanno mai portato niente di buono, gli egoismi reciproci non salvano il paese, lo distruggono definitivamente. La Lega cosa vuole? Nel mio parere sulla Lega lo conoscete molto bene, ho visto qui in Veneto che non c'è giorno che passi che non scoppiano durissime contrapposizioni tra uomini della Lega, gli uni contro gli altri, dovevano essere quelli che risolvono i problemi, vediamo, io credo che la gente deve essere molto attenta nel distinguere quello che c'è di propaganda e quello che c'è di fatto concreto, finora molto fumo e poco arrosto, il merito della Lega è innegabile perché hanno fatto una politica che è apparsa la gente diversa, ma poiché secondo me non è la politica giusta, vedi le vicende delle quote latte dove si trasgrediscono le regole e non si rispetta la legalità per favorire un piccolo gruppo di allevatori, allora se la sostanza è questa vuol dire che la colpa è anche nostra, che non abbiamo saputo parlare con la gente il linguaggio della gente, un partito della nazione nasce anche per questo e io dico un partito della nazione si affermerà in Italia se ci sarà una rivoluzione generazionale, cioè se i giovani sapranno sostituirsi alla vecchia classe dirigente, entrare a pieno titolo e essere protagonisti, dico ai ragazzi nessuno vi garantirà niente, dovete essere voi a fare una battaglia e a vincere, noi abbiamo posto da tempo la questione centrale della politica italiana, che le grandi riforme, i provvedimenti impopolari che servono al Paese non si riescono a fare perché chi governa ha paura di perdere le prossime elezioni, allora c'è la necessità di un governo di responsabilità nazionale che abbia un'agenda dolorosa, che affronti le questioni vere di questo Paese e anche di un armistizio tra le grandi forze politiche che sono in campo, in queste ore si parla ad esempio del tema del CSM, secondo me non ci possono essere preclusioni nei confronti di personalità che hanno servito la Repubblica, così come non ci possono essere imposizioni, bisogna, ricordando le parole del Capo dello Stato, che noi eleggiamo i membri del Consiglio Superiore della Magistratura laici e poi assieme è auspicabile che coi togati si trovi una soluzione capace di essere di equilibrio, di responsabilità e anche di autorevolezza per l'organo di autogoverno della Magistratura, basta polemiche, basta risse, certamente non è accettabile un veto su una parte, ma non è accettabile neanche un'imposizione, allora troviamo una soluzione, noi intanto facciamo il nostro dovere, leggiamo al più presto gli otto membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura e poi assieme ai togati in un dialogo, perché tra laici e togati è necessario il dialogo, perché tra il potere legislativo e il potere giudiziario è necessario che si apra la stagione del dialogo, non sempre nella contraposizione. Le larghe intese non hanno fatto molta breccia negli altri partiti? Secondo me l'hanno fatta molta, le larghe intese, il problema vero è che ciascuno continua con la propaganda, quando dalla propaganda si passerà i fatti si capirà che tanti sono disponibili, c'è qualcuno che vorrebbe le larghe intese prescindendo da Berlusconi, come se Berlusconi non dovesse esistere o peggio partendo in una politica di larghe convergenze con un veto su Berlusconi, che è quello che ha vinto le elezioni, credo che questo sia un percorso irrealistico, perché è chiaro che quando si parla di armistizio tra i partiti si parla anche di un coinvolgimento di tutti, da Berlusconi a Bersani, in un ragionamento diverso rispetto a quelli che sono stati fatti fino ad oggi. Fino ad oggi tutti sono all'autosufficienza, tutti sono all'esibizionismo, pensano di poter governare il Paese da soli o magari contro gli altri, ecco il Paese da soli e contro gli altri non si governa. La questione Fiat si è arrivati a questo punto perché non è stata affrontata nei dovuti modi tempo addietro, perché manca una politica industriale del governo? La politica industriale del governo è simboleggiata dal fatto che non c'è il ministro delle attività produttive da tempo, comunque la vicenda della Fiat era segnata da tempo, quando si è intrapreso il percorso con la Chrysler si doveva capire che l'internazionalizzazione della Fiat avrebbe portato conseguenze anche in Italia, chi non ha voluto guardare la realtà in faccia oggi si meraviglia, ma si meravigliano loro, perché la gente che voleva guardare le cose le ha viste. Lei ritiene che il governo se dovesse cadere cadrà per motivi esterni alla politica o no? No, ma questo io non sono il mago d'Avellino, non lo so, non so questo. Il futuro dipende da noi, mai da eventi esterni. Ognuno è artefice del suo destino, poi certo ci sono tanti elementi, ma io credo che più che fare vaticini sul futuro dobbiamo essere preoccupati di realizzare quello che possiamo oggi costruendo delle cose nuove. Ultima domanda, Michi Vendola proprio oggi su Repubblica si è definito l'Obama bianco, lei cosa ne pensi di questa campagna personale piuttosto aggressiva? Mi sembra che Michi Vendola faccia la parte sua, è tutto chiaro, tutto chiaro, il problema che pone Vendola lo pone al Partito Democratico, lo pone con forte intensità e anche con grande malizia, ma questo è chiaro a tutti.